I tessuti tradizionali sono ancora validi per l'outdoor? Ciao ragazzi, ben ritrovati! Questa domanda mi è stata fatta molte più volte di quante ci si potrebbe aspettare negli ultimi 5-6 anni e ogni volta che mi viene posta mi scappa sempre un mezzo sorriso, adesso vi spiego il perché. Quando feci il passaggio dai lupetti agli esploratori, parliamo del 99, quindi qualche annetto fa, il mio riparto aveva ancora in dotazione delle vecchie tende canadesi in tela che erano un vero e proprio incubo. Pesavano un colpo, trasportarle sopra lo zaino era una vera e propria follia, ce le mettevamo così. Il tessuto non era più impermeabile perché la cera con l'utilizzo se n'era bella che andata e nessuno aveva pensato a rimettercela. Quindi ogni volta stavamo lì a pregare tutti gli idee del cielo che non piovesse perché altrimenti ci saremmo passati la notte zuppi. Oltretutto dovevo esserci fatti il mazzo per trasportare tutta quella roba. Quando finalmente furono dismesse e passammo a quelle in nylon della Ferrino, ci sembra di essere improvvisamente sbarcati nel futuro. È da questa esperienza che viene un po' il mio divertimento quando sento parlare nel 2023 di tessuti tradizionali. Abbiamo fatto tanta fatica per liberarcene e adesso sono tornati di moda. Sono risorti dalla tomba per perseguitarci con i loro pesi eccessivi e con la loro scarsa resistenza alla pioggia. Tralasciando gli scherzi, sicuramente negli ultimi anni c'è un rinnovato interesse verso l'equipaggiamento vintage nelle varie comunità dedicate all'outdoor, sia italiane che estere. Interesse che ha più a che fare col fascino e con la nostalgia che con l'effettiva praticità. Perché i problemi della lana e della tela, quelli erano e quelli sono rimasti con il peso stabile in prima posizione. Oggi voglio mostrarvi un esempio di kit per bushcraft e campeggio essenziale di concezione tradizionale. Vedere da quali oggetti è composto e fare qualche riflessione insieme a voi per vedere se un equipaggiamento di questo tipo è ancora valido nel 2023. Il criterio ragazzi è quello classico delle 5C che prevede di inserire nel nostro kit almeno un utensile da taglio, almeno un dispositivo per accendere il fuoco, un contenitore possibilmente di metallo per bollire l'acqua, del cordame e un qualcosa per coprirsi. È importante notare che queste che vi ho appena elencato sono categorie di oggetti piuttosto che oggetti singoli. Questo significa che nulla mi impedisce di mettere ad esempio più utensili da taglio, quindi un coltello e un seghetto, oppure più dispositivi per accendere il fuoco, quindi un firesteel e un accendino. Nel mio caso vedrete che ho messo più oggetti per coprirmi, perché per quanto mi riguarda la protezione dal freddo rappresenta l'aspetto più critico quando si passa la notte all'aperto. In questo caso abbiamo un Sasquatch di Neander Tart che ho preso in prestito da Dario. Volendo mettere dentro un solo utensile da taglio ho scelto un coltello grande in modo da poterci anche tagliare un po' di legna se necessario. Un kit fuoco tradizionale composto da acciarino, selce e materiale carbonizzato da usare come esca. Ho incluso anche la scatolina in modo da poter produrre dell'altro materiale carbonizzato se serve. Del semplice cordame in fibra naturale, un contenitore di metallo con coperchio, un poncho, una coperta di lana e una pelle per isolarmi un minimo dal terreno freddo. Il tutto è recchiuso in questo bedroll della Prometheus che non è altro che un rettangolone di tela cerata. Si mette tutto dentro e si arrotola come un involtino. Sempre in tela cerata, sempre di Prometheus è questa sacca che contiene la gavetta e ha delle tasche per gli oggetti più piccoli. Questo ragazzi è un mio esempio di kit contenente pezzi che potremmo definire tradizionali, realizzati quindi in lana, in tela, in acciaio, i materiali che si usavano una volta. Ha senso girare per i boschi con una roba del genere? Dipende. Facciamo qualche considerazione e valutiamo i prove e contro. La prima considerazione da fare è che si tratta di un kit molto minimale, infatti se avete notato manca la cosa più importante, il rifugio. Questo perché se volessi un rifugio dovrei ricorrere a un tarp o una tenda in tela cerata. Questo significherebbe aggiungere 3 o 4 kg di peso e svariati altri litri di volume. Non sarebbe più possibile racchiudere tutto all'interno del bedroll e portarlo a tracolla, quindi dovrei procurarmi uno zaino. Anche questo di tela, volendo rimanere nell'ambito dei tessuti tradizionali, quindi sarebbero altri 2 o 3 kg. Troppo peso, non si può fare. Senza una tenda o un tarp sono vincolato ad utilizzare questo kit in zone dove so che posso trovare un riparo naturale, come una grotta o una sporgenza rocciosa, oppure ad utilizzarlo quando sono sicuro che non piove. Questi purtroppo sono i compromessi dell'equipaggiamento tradizionale. O mi porto sulle spalle del peso eccessivo, oppure devo togliere oggetti limitando le mie possibilità. Prima vi ho parlato delle tende in tela che perdevano acqua da tutte le parti. Ecco, prima dell'avvento dei tessuti tecnici, si usava trattare la tela con prodotti idrorepellenti in modo da renderla impermeabile. Questo si può ancora fare se si dispone dei prodotti giusti e Prometheus ovviamente ha la sua linea. Ho fatto qualche prova con questa tela, la tela con cui è realizzato il bedroll e anche la sacca che vi ho fatto vedere prima, che vi arrivano già trattati e ragazzi l'acqua la tengono. La sacca quella della gavetta l'ho riempita come un secchio e praticamente stagna, la potete usare come borraccia. Un tarp o una tenda in tela cerati opportunamente sicuramente riparano dalla pioggia, rimane comunque il fattore peso da considerare. Veniamo al pezzo forte, la vecchia coperta di lana militare. Anche questa c'era qualcuno che se la portava ai tempi dello scautismo e negli ultimi anni è stata riportata in auge da personaggi che praticano del bushcraft old style, tipo dei Canterbury. Ora, la percezione del caldo e del freddo è un qualcosa di molto personale, così come è personale la capacità di sopportare il disagio. Ricordo Dave Canterbury all'Addoor Expo del 2019 a Bologna che spiegava come dormire a zero gradi, qual era l'attrezzatura che lui utilizzava per dormire a zero gradi e come impiegarla. Ecco io quell'attrezzatura lì, più che a zero gradi potrei dormirci al massimo l'estate al mare in pineta. Meglio se abbracciato una bella ragazza. Morale della storia, ragazzi, dovete fare un po' di prove, vedere qual è la vostra capacità di sopportare il freddo e valutare se nel 2023 è ancora il caso di utilizzare la coperta di lana quando esiste il sacco a pelo che pesa molto di meno e tiene molto più caldo. Lo spessore di queste coperte di lana militari è di qualche millimetro, non è una roba che fa miracoli. Io ci posso dormire a 18 gradi, via, e poi comincio ad avere freddo. Sì, ok, ci si può mettere vicino al fuoco e lei in effetti non teme le scintille, a differenza dei tessuti tecnici moderni, ma, ma, come vi spiegavo in un video precedente, non è semplice allestire un fuoco che scaldi e che duri per tutta la notte, senza contare che la maggior parte delle volte potrebbe essere vietato. Sugli altri oggetti non è che ci sia molto da dire, tranne che sono oggetti abbastanza difficili da utilizzare per un principiante. Penso al coltellone, penso all'acciarino medievale. La mia opinione è che un equipaggiamento di questo tipo va bene per una persona che ha già alle spalle una discreta esperienza e vuole alzare un pochettino il livello di difficoltà. Togliere qualche comodità, togliere qualche facilitazione, per provare un'esperienza nuova, per avvicinarsi a quelle che potevano essere le sensazioni di un viandante, di un campeggiatore di una volta. Ovviamente raga, non vi mettete a provare il muscle up, faccio sempre delle analogie con il fitness, non vi mettete a provare il muscle up se non sapete fare le trazioni. Se siete dei principianti, utilizzate dell'equipaggiamento moderno per i vostri campeggi, per i vostri pernottamenti all'aperto. È più facile da usare e vi protegge in maniera più efficace. Poi ci sarà tempo per sperimentare tutto quello che volete. Per il momento è tutto ragazzi, ma il discorso non si conclude qui, perché ho intenzione di girare un altro video di pernottamento dove andrò ad utilizzare questo kit. In modo da farvi vedere come sfrutterò questi materiali per passare la notte nel bosco. Quando sarà pronto ve lo lascerò qui in schermata finale e sotto in descrizione. Ringrazio Prometheus che mi sostiene da anni fornendomi sempre gratuitamente tutto il materiale, compreso quello che avete visto in questo video. Se siete interessati ai prodotti Prometheus trovate tutti quanti i link in descrizione. Ringrazio voi per avermi seguito, ragazzi iscrivetevi al canale e lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere che cosa ne pensate di tutto ciò. Vi abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video.